Ci siamo frugati in tasca, ripetutamente, perché la cifra è stata abbastanza importante da raggiungere e ce l'abbiamo fatta. Come piccole formichine, euro dopo euro, i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Don Milani in Nido Peter Pan e la scuola primaria di Salleo hanno comprato e donato un defibrillatore con piastre pediatriche, il primo che si può utilizzare anche nella fascia 0-12. Dopo 5 minuti in caso di anossia si hanno dei grandi danni permanenti, quindi anche noi guardandoci siamo in una zona virtuosa, come del resto è virtuosa anche la provincia di Arezzo. Tuttavia entro 5 minuti abbiamo provato, non saremmo mai riusciti appunto a raggiungere il defibrillatore più vicino. Uno pensa normalmente che ne abbia bisogno di defibrillatore magari la persona anziana o l'adulto, però pensando anche a un caso di occlusione dei via respiratoria oppure una compressione toracica ecco in quel caso lì c'è una sofferenza pulmonare che poi nella peggiore ipotesi porta a una sofferenza cardiaca. Come avete fatto iniziative, non lo so, con delle scene così magari chi vi ascolta, qualche altro comitato di genitori può prendere esempio. Come avete fatto a raccogliere questa cifra? Dunque abbiamo fatto volantinaggio e più che altro passa parola tramite gruppi whatsapp, conoscenze, ci siamo appellati a tutti proprio. La cerimonia di consegna tra brindisi e complimenti ha visto l'annuncio del comune di Arezzo che sarà formato il personale che poi sarà in grado di utilizzarlo. Le maestre e le insegnanti verranno formate perché poi è importante la donazione del defibrillatore ma altrettanto le persone che sapranno usarlo. Certo, questo è un regalo che la comunità di San Leo ha fatto alla città di Arezzo e che è un regalo che dimostra una grande sensibilità civica. È evidente che se questi strumenti che noi speriamo di non usare mai ma se dovessero servire è bene ed è necessario ed utile che ci siano persone in grado di farlo. Quindi abbiamo già mandato una richiesta alla ASL perché questa è la prassi affinché vengano formati gli insegnanti, gli educatori, il personale così che oltre ad avere lo strumento si abbiano anche le persone capaci di poterlo utilizzare. Arezzo si conferma una città protetta in maniera molto estesa, la più protetta d'Italia, però su questo non abbiamo limiti quindi più ce ne sono e meglio è.